Tonna ad Ascea, provincia di Salerno, dal 20 al 22 maggio 2022, presso Villaggio Le Palme e Palazzo Ricci, la quarta edizione di For Longevi, di Belli, Sani, Longevi e Felici, Moto e Longevità. Il sindacato SNALB, comparto sanità nella persona di Gennaro Vasile, responsabile zonale, vi invita a questa quarta edizione di questo importantissimo evento organizzato dal Centro Studi PAF, in collaborazione con l'Università Popolare di Stili di Vita, il sindacato SNALB Sanità, XEN Comitato Provinciale, Salerno e Fitness Anti-Agin. Una tre giorni incentrata su convegni e laboratori con al Centro tutto ciò che riguarda moto e longevità. Il segretario scientifica Eugenio Luigi Iorio, presidente dell'Osservatorio Internazionale dello Stress Ossidativo, Vincenzo Pizza, unità operativa Neurologia Pio San Luca di Vallo della Lucania e Alfredo Petrosino, direttore del Centro Studi PAF. La parte dei convegni prevede il rilascio di crediti ECM con il parroginio dell'Università Popolare e del sindacato SNALB Sanità del comparto dell'ASL Salerno. Il tutto si svolgerà nei tre giorni, a partire da venerdì 20 maggio alle ore 14 presso Palazzo Ricci con il convegno moto e longevità per proseguire poi sabato 21 maggio e domenica 22 all'interno del villaggio Le Palme scelto come campo base per la tre giorni con benessere e longevità e con diversi laboratori.